questo è normale come dire più massiccio come dire più massiccio c'è più roba capisci? carne è questo bello bello Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì.